Belen e Antonino sono stati paparazzati insieme con la piccola Luna Marie, sempre più innamorati. La crisi sembra passata, anzi la stessa Sugar l'ammette che non si sono mai davvero lasciati. Proprio lei ha voluto mettere un punto sul gossip e alla domanda se fossero tornati insieme, risponde. Noi due non ci siamo mai lasciati. La crisi però c'è stata, conferma il settimanale Chi. Vedremo cosa succederà.